Anche se erano provvisori ero molto contenta, contenta molto. Il mio problema dei denti è stato, è nato molto presto nella mia vita e avevo fin da piccola perché la cultura che c'era nel dopoguerra, io sono nata nel 1955, era una cultura che non comprendeva anche per i bambini lavarsi i denti, curarsi. Il problema ho cercato di risolverlo a 23 anni, quando mi hanno tolto molti denti e hanno dovuto mettermi una protesi mobile per quanto riguarda i denti posteriori, che purtroppo ho portato per tutta la vita. È veramente debilitante avere il problema di toglierli e metterli tutti i giorni per lavarli, per tenerli puliti e anche triste. Il primo impatto è stato molto positivo, ho visto una grande, io lavoro in ospedale, sono una sanitaria, ho visto una grande professionalità, una grande precisione, pulizia, proprio alla vanguardia, in un posto dove veramente si lavora all'avanguardia. Sarà molto molto facilitata da tutti i punti di vista, anche perché ho pensato, non sono giovane, se dovessi avere altri problemi, perlomeno non avrò il problema di dover restare anni a curare dei denti, perché in Italia il lavoro sarebbe stato molto molto lungo, mentre qui con due step abbiamo risolto tutto. E poi sono belli. Tutte le fai un bel sorriso, perché sono veramente bella. Adesso i due viaggi, come sarà? Con un? Con un bel sorriso. Con un bel sorriso.